Su, si so questo da Matteo. Come sarà lo sbarco degli extraterrestri? Lazarus oltre ai rappresentanti delle Pleiadi, quelli da Lyra, Arturo, Sirio e Vega probabilmente saranno i primi perché sono loro a bordo delle astronavi nelle vicinanze ed inoltre, essi sono i vostri principali antenati. Conosco il messaggio di Oris, così voi già sapete che alcuni di voi hanno antenati rettiliani ed arriveranno anche alcune delle loro anime illuminate. Dico arriveranno ma voi sapete che molti di noi sono già lì. Essi saranno estasiati nel rivelare finalmente le loro vere identità, ed alcuni di loro vi scioccheranno per davvero. Su, si vuoi dire perché li conosciamo così bene per via delle posizioni che occupano? Lazarus è esattamente così. Su, si non credo che tu voglia dirmi di chi si tratta. Oh sì? Lazarus no, perché è una loro prerogativa farlo quando sarà il momento, non la mia adesso. In realtà, potresti non essere troppo scioccata da qualcuno, suzzi, e dobbiamo fermarci qui. Su, ok, Lazarus. Sono così ansiosa, che questo succeda. La Terra si trova in un'orbita stabile o necessita ancora della vostra assistenza? Lazarus, la nostra amata Gaia, permettimi di aggiungere qualcosa qui. Gaia è il nome dell'anima del vostro pianeta, e gli antichi nomi del suo corpo planetario sono Terra e Sham, ma noi la chiamiamo Earth Terra in inglese proprio come voi, anche se non è semplice mettere la E maiuscola sulla Terra su cui camminate, come ha fatto qualche civiltà precedente priva di fantasia. È stata la stessa cosa con Dio, apparentemente perché egli è un Dio, non una Dea. Comunque, suzzi, con la luce in entrata, e l'ha riacquistato gran parte della sua forza originaria, ma aggiungiamo ancora la nostra insieme alla nostra tecnologia per assicurarle stabilità. Non tutto lo sconvolgimento per liberarla dalla negatività è finito, sai, e non c'è motivo di ridurre il nostro impegno a questo riguardo finché la non sarà totalmente nelle vibrazioni della quarta densità. Allora tutti noi grideremo alleluia il nostro lavoro lì sarà finito. E a quel punto, tutti voi conoscerete le vostre sorelle e fratelli universali. Matteo grazie, mamma. Aggiungo, a ciò che ha detto Lazarus, un altro importante servizio per voi, la potente luce, che viene irradiata verso di voi dalle anime in nirvana ed innumerevoli altre nei mondi dello spirito. E, mamma, ho un'altra richiesta per te. Lazarus ha parlato di menta. Affinché i lettori possano conoscere qualcosa di quella civiltà e dell'aiuto, che vi danno, per favore scegli alcuni passaggi appropriati dalla sua presentazione ed aggiungili qui. Menta siamo un campo di energie vasto e potente di circa un miliardo di anime collettive. Quando ci incarniamo, viviamo su un pianeta chiamato Ritorno in una galassia oltre la costellazione della Lira. La nostra patria è uno dei molti mondi abitati non ancora visti dai vostri telescopi. Spiegherò perché dico io e noi in modo intercambiabile. Parlo con voi come un'anima individuale, ma non sono mai separata dalla nostra mente collettiva. Nessuna anima è considerata migliore di un'altra in quanto tutti gli aspetti della nostra mente sono necessari per la stabilità del nostro mondo e la nostra crescente consapevolezza. Come se collettivi noi assomigliamo molto più ad un albero, che ad un umano perché la zona della nostra testa è un'abbondanza di sensori, che sembrano fiori in un piccolo mazzo. Quella è l'unità abitativa della mente del gruppo. Il bianco è il colore predominante di questa zona della testa, ma si vedono anche i colori di pastello sono i colori di aree specialistiche come l'arte, la tecnologia, l'ingegneria, l'educazione dei ragazzi e così via. Siamo una gamma di colori più propriamente identificati con i talenti e le abilità e gli interessi principali di un determinato periodo, così i colori cambiano per riflettere la frequenza in cui stiamo operando. Cioè, è la sfaccettatura del prisma rifratta nel colore identificato con quella frequenza. Connessi con il grappolo dell'unità abitativa ed in estensione in tutte le galassie ci sono un miliardo o più di sottili filamenti. Quelli sono i nostri sé spirituali, che vagano nei cieli alla ricerca di nuova conoscenza o più esattamente, di memorie, perché al massimo livello della consapevolezza spirituale tutto è conosciuto. Tutte le scoperte del sé spirituale sono immediatamente ed automaticamente trasmessi alla mente del gruppo. Siamo più potenti di molti altri che stanno anche aiutando con il massimo impegno, ma la loro lunghezza d'onda è minore della nostra, così ci siamo volontariamente offerti per una duplice missione. Irradiamo la nostra energia e sosteniamo inoltre la luce da quelle altre fonti una volta, che essa è all'interno dell'atmosfera terrestre. Ciò è essenziale affinché i vostri corpi possano assorbire i raggi a livello cellulare ed adattarsi alle frequenze più elevate che la Terra raggiungerà. Questo vi dà la possibilità di sopravvivere fisicamente durante il suo processo di ascensione, che alcuni chiamano cambiamento ed altri pulizia. Oltre a sottolineare ancora una volta quanto sia di vitale importanza restare al di fuori della paura, è anche per una valida ragione, che ci siamo concentrati sull'aiuto extraterrestre passato, presente e futuro. Con la Terra, che entra nell'ultimo stadio dell'uscita dalla terza densità, è ora, che la smettiate di pensare a voi stessi soltanto come ad individui con personalità, caratteristiche, talenti, speranze, sogni e progetti distinti. Siete davvero questo, ma siete molto di più e dovete iniziare a considerare voi stessi come agli esseri multidimensionali che siete. Siete membri di una famiglia universale di anime interconnesse, eternamente unite quali parti inseparabili di Dio, e di vostri fratelli e sorelle vogliono che sentiate un'affinità personale con loro in modo, che i vostri incontri imminenti siano gioiosi come riunioni di famiglia. Il nostro amore è con voi in ogni momento mentre percorrete gli ultimi brevi tratti verso l'età dell'oro della Terra. Amore e pace Matteo Esuzziward